Che intervenga la Procura per trovare una soluzione al problema della movida rumorosa nel centro di Pescara. E' questo l'auspicio del Comitato Tranquillamente Battisti, che torna alla carica contro i rumori del divertimento notturno nella zona di Piazza Muzzi. All'indomani della pubblicazione dei risultati dei controlli effettuati dall'Arta, che evidenziano i superamenti dei limiti dei decibel nelle ore notturne dello scorso mese di luglio, e il Comitato che raccoglie le proteste dei residenti è tornato alla carica, accusando l'amministrazione comunale di Pescara di non fare nulla per risolvere il problema, come dichiarato al Tg8 da Federico Di Filippo, portavoce del Comitato Tranquillamente Battisti. I rilevi fatti dall'Arta, quindi i dati che sono emersi, confermano semplicemente quella che è una situazione che ormai va avanti da troppi anni, dal 2016. Le richieste ne abbiamo già fatte in quantità spropositata, credo che non ci sia più nulla da chiedere. L'unico auspicio è che a questo punto anche la Procura intervenga andando a ricercare quelle che oggi non possono che essere delle omissioni, perché se dal 2016 ad oggi non si è risolto nulla e nessuno ha esercitato i poteri che gli vengono attribuiti in maniera concreta, perché sul terreno non è ancora relato nulla, probabilmente possiamo solo parlare di omissioni. Come va avanti questa battaglia, al di là del fatto che voi auspicate un intervento della Procura? Noi abbiamo offerto all'amministrazione comunale la possibilità di venire ad una transazione rispetto a quella che è la richiesta di risarcimento economico che stiamo portando avanti nel procedimento civile. In cambio di azioni concrete, noi rinunciamo a ogni pretesa economica, perché a noi non interessa il risarcimento economico, ma interessa la risoluzione del problema. Dobbiamo dire che anche su questo aspetto non abbiamo avuto risposta, quindi la palla in questo momento non è a noi.